Siamo pronti per essere raccolti. La vendemmia l'anno scorso, estate del 2017, arrivavamo da un lungo periodo di siccità, con molto caldo, in certi casi, addirittura a ferragosto e in certi casi ci furono delle vendemmie notturne. Come sta andando quest'anno? Noi intanto chiediamo come sta andando su un'azienda in Toscana, siamo a Castiglion-Doccia, la telegricola si chiama Podere Forte, noi abbiamo al telefono l'enologo Cristian Cattaneo. Benvenuto Cristian. Grazie, buongiorno a tutti. Come va? Buongiorno a voi. Ma noi siamo in prossimità della prima vendemmia per una base sfumante, una piccola bucina di nicchia a base di pino nero e niente, è proprio questione di giorni, i grappoli sono veramente ottimi. L'annata fresca con questa velocità valorizza questa produzione e tra un paio di giorni quindi inizieremo in cantina. Quindi inizierete già ad agosto, insomma? Sì, sì, tradizionalmente.